Buonasera Possiamo andare? Pronti? Siamo partiti? Dai, dai, dai Senti l'improvviso lui se ne va Bene, perfetto Le carte Cos'è sta succedendo? Ma siamo in onda o no? Dio buono De Dio Più di quella porta di qui, dai Dio Ah Non va bene questo suono del tavolo Ce ne vuole un altro Sentiamo? Sentiamo? No, 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 non fa il buono Sentiamo? Già va meglio Di disturbo Guarda 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 Mi sta bloccando tutto Ma dai, ma dai, ma dai Tutte le volte che parto